Musica Rapina in villa a Caltanissetta, picchiata la padrona di casa, una donna di 65 anni. Gettonopoli al comune di Caltanissetta, la polizia sequestra i verbali delle commissioni consigliari. Movimento 5 Stelle, spreco denunciato da noi. L'istituto testa secca di Caltanissetta, rischio chiusura. Segnalato pakistano per possesso di droga. Intercettati con la droga nascosta addosso, due denunce a Riesi. Congresso medico, le mille facce della fertilità. Al centro Michele Abbate, la tradizione popolare cumpitre. Scuola lavoro, la real maestranza insegna agli studenti dello Juvara, tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Rapina in villa, questa notte a Caltanissetta, i malviventi hanno picchiato la padrona di casa. Sentiamo. Nel corso della notte, intorno a luna, i poliziotti della sezione volanti sono intervenuti presso una villa di via Luigi Monaco a Caltanissetta, perché era stata segnalata una rapina consumata. Sul posto è stata contattata una donna di 65 anni in stato di shock, che ha riferito agli agenti che qualche ora prima, alle 23.30 circa, mentre si trovava nella sua villa e precisamente all'interno della camera da letto, aveva udito dei passi al pian terreno e poco dopo era stata aggredita da tre malviventi travisati da passamontagna, di cui uno armato di pistola. I rapinatori, dopo averla percossa, si sono allontanati asportando diversi oggetti. La vittima ha riferito che i malviventi, prima di darsi alla fuga, hanno manomesso tutti i telefoni di casa. La donna, soccorsa dal fratello convivente, rientrato a casa, che ha dato l'allarme al 113, è stata trasportata presso l'ospedale Sant'Elia, dove è stata medicata. Indagini in corso da parte della squadra mobile della Polizia Scientifica, intervenuta per i rilievi. Gettonopoli al comune di Caltanissetta, la polizia ha sequestrato i verbali delle commissioni consigliari. La denuncia parte dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo Giovanni Magri. Dopo il primo anno di mandato elettorale, il Movimento 5 Stelle del comune di Caltanissetta ha chiesto una verifica. Una verifica che riguardava i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e le commissioni. Due giorni fa la polizia giudiziaria è arrivata al comune di Caltanissetta e ha preso i verbali. Parliamo innanzitutto di cosa stava accadendo nelle commissioni. Ma più di cosa stava accadendo, noi abbiamo solo voluto fare una verifica per capire se effettivamente il numero delle commissioni fosse congruo al lavoro che viene prodotto, al numero dei consigli comunali che poi venivano appunto convocati e la nostra, chiamiamola la mentela, era più che altro sul fatto che diverse commissioni avevano una durata molto ridotta. Quindi noi cosa diciamo? Se queste commissioni hanno una durata ridotta, non possono produrre anche come qualità di lavoro qualcosa che possa essere funzionale poi a lavorare bene in consiglio comunale. Quindi la nostra proposta era molto semplice. Ridurre il numero delle commissioni, aumentare il tempo, in modo tale che così avremmo avuto un notevole risparmio di denaro, quindi dalle casse pubbliche, e poter lavorare con un numero ridotto di commissioni che invece si sono protratte, continuano a protrarsi e secondo noi bisognerebbe assolutamente ridurle. Capita a volte che pur essendoci il numero legale in una commissione, magari questo numero legale cade, ma il consigliere che esce da quella commissione va in un'altra commissione. Allora se tu consigliere comunale entri per lavorare in una commissione, devi stare in quella commissione, devi produrre lavoro in quella commissione. Il regolamento è chiaro e dice che quando esci da una commissione devi dire il motivo, devono essere motivi molto gravi, hai un problema familiare, ma il motivo non può essere che tu esci da una commissione per andare in un'altra commissione, non solo così, prendi anche due gettoni di presenza, questo non è assolutamente possibile. E' capitato anche che dei consiglieri comunali firmano, vanno via dopo un po' e prendono comunque il gettone di presenza completo? Allora io questo non lo so se loro potrebbe capitare, questa è una questione di correttezza del consigliere comunale perché anche 5 minuti la legge permette che il consigliere comunale possa dopo 5 minuti allontanarsi, anche per motivi politici. Poi è una questione di correttezza, secondo me questa cosa andrebbe regolamentata perché non è possibile che dopo 5 minuti si esca da una commissione, può accadere, è accaduto e questo chiaramente secondo me non è corretto politicamente. Quindi i verbali sequestrati dalla polizia giudiziaria riguarda questo caso o non si sa? Potrebbe riguardare questo caso ma chiaramente io non ho informazioni in tal merito. Noi siamo a disposizione comunque della procura anche per fornire tutti i dati che noi abbiamo assunto nell'arco di un anno che sono abbastanza consistenti. Un'altra domanda che la gente si pone, perché non vengono più celebrati i consigli comunali? I consigli comunali non vengono più celebrati perché c'è poco lavoro appunto nelle commissioni, c'è stato per un periodo ultimamente tutto bloccato, allora il Presidente del Consiglio avrebbe potuto, tornando sempre sul ragionamento che facevamo prima, fare un punto della situazione e dire allora signori in questo momento probabilmente c'è tutto bloccato, l'ufficio tecnico è bloccato, non arrivano delibere, allora a quel senso fare cinque commissioni in una settimana, per esempio con la commissione urbanistica, cosa che io ho dichiarato sempre avverbale. Riduciamo, facciamone una, non ne facciamo, se abbiamo lavoro lavoriamo, se è tutto fermo risparmiamo e facciamo risparmiare i nostri cittadini. L'Istituto Testa Secca rischia di chiudere, non ha più fondi e i dipendenti non percepiscono lo stipendio da circa 40 mesi. Nuova emergenza lavorativa a Caltanissetta, questa volta a rischiare sono i dipendenti dell'Istituto Testa Secca. Con noi Alberto Zagarella Cobas, uno dei sindacati che segue questi dipendenti. Da tantissimi mesi non percepiscono più lo stipendio, quanti sono i mesi? Sì, dite bene, è un'altra nuova emergenza la quale noi più volte abbiamo denunciato. rispondo alla tua richiesta. I mesi io penso che siano intorno a 40. Noi oggi assistiamo a una realtà dove questi lavoratori, vero sì, devono percepire tante mensilità, ma è anche vero sì che questo istituto, non avendo avuto progettazione, non avendo avuto un proseguo lavorativo su vari settori o sulla vera realtà della nascita, si ritrova ad avere un presidente no profit, se si prende la parola, cioè a non prendere soldi, ma anzi. La stessa identica cosa succede per i lavoratori, perché capite bene, quel lavoratore non ritribuendo monoreddito per 40 mesi significa proprio azzerarlo a livello sociale e a livello emotivo. Ma da chi dipende l'Istituto Testa Secca? L'Istituto Testa Secca è un rebos da chi dipende, perché i lavoratori realmente sono stati assunti con una normativa di legge che ad oggi non si riesce più a reperire negli uffici regionali. Poi percepiscono un finanziamento talmente, dico poco come la fonda, perché parliamo di 10.000 euro, non più di tanto, a fronte di 10 dipendenti. Quindi capite bene, ogni dipendente, tra lo stipendio, tra quello che è il proseguo dell'Istituzione, per quello che bisogna versare per ogni lavoratore, ovviamente non si riesce a coprire nessun progetto. Questi 10.000 euro da chi li percepisce? Dal Comune di Caltanissetta, il quale, devo dire, è molto presente su questo. Probabilmente ultimamente non tanto, però è sempre stato presente. Quindi mancano i finanziamenti regionali? Il finanziamento regionale, anche quello, è lieve, è un minimo, perché a difenza di altre realtà che hanno il diritto al 100%, loro non ce l'hanno. Negli ultimi anni il Testa Secca è un istituto che si è autofinanziato, cercando di fare la qualsiasi cosa, il piccolo affitto, l'assistenza agli anziani per il quale percepisce questo fondo dal Comune. degli autofinanziamenti che però non sono bastevoli nemmeno a gestire quelle che sono le spese di gestione all'interno, luce e tant'altro. Ricordiamo chi ospita l'Istituto Testa Secca? L'Istituto Testa Secca oscupa alcune unità che sono persone fortemente disagiate, ospita persone anziane che da sole non sono autogestibili e magari durante il giorno stanno qua, pranzano, hanno un passo, hanno un'assistenza, ma parliamo di numeri proprio lievi. La realtà è che in questo istituto non c'è mai stata volontà di fare una progettazione, perché io penso che se oggi vi fosse stato realmente un interesse dalla parte politica del territorio, sul Testa Secca, facendo una progettazione assieme al personale che vi è oramai da tanti anni, parliamo, c'è gente qui dentro che ha più di 30 anni di servizio, una progettazione seria, un qualcosa comunque discussa sia con le parti sociali che con le parti politiche, io sono il pensiero che il Testa Secca possa essere una bella realtà, anche perché già è una realtà in sé per sé, per noi nisseni. Domani pomeriggio alle 16 qui ci sarà un incontro? Sì, domani pomeriggio alle 16 ci sarà un incontro e con i lavoratori, e con chi amministra il Testa Secca perché chiederemo di fare un tavolo che poi porteremo realmente a Palermo di emergenza sociale, come dicevamo all'inizio più volte paventata, affinché tutti assieme possiamo trovare una soluzione e cercare di far ripartire il Testa Secca con delle progettazioni nuove e talmente brevi e veloci che per poter garantire l'occupazione di questi lavoratori, perché altrimenti tra quello che già viene meno, tra quello che giustamente ogni lavoratore rivendica, significa che tra un mese, due mesi al massimo non si potranno più pagare luce o tant'altro, significa la chiusura, perché voi capite bene che non appena iniziano ad arrivare pignonamenti, inizia ad arrivare tutto, praticamente andiamo a blocco di quelle che possono essere i finanziamenti di attingere, quindi significa la chiusura di un palazzo storico di Caltanissetta. Il tutto solo ed esclusivamente per la mancanza di interesse reale di chi dovrebbe accudire determinate situazioni e dalla realtà demagogica che viene ad oggi presentata sul nostro territorio da chi fa politica. Segnalato un pakistano per possesso di droga. Nuova emergenza lavorativa a Caltanissetta, questa volta a rischiare sono i dipendenti dell'Istituto Testa Secca. Con noi Alberto Zagarella-Cobas, uno dei sindacati che segue questi dipendenti. Da tantissimi mesi non percepiscono più lo stipendio, quanti sono i mesi? Sì, dite bene, è un'altra nuova emergenza la quale noi più volte abbiamo denunciato. Rispondo alla tua richiesta. I mesi io penso che siano intorno a 40. Noi oggi assistiamo a una realtà dove questi lavoratori, vero sì, devono percepire tante mensilità, ma è anche vero sì che questo istituto, non avendo avuto progettazione, non avendo avuto un proseguo lavorativo su vari settori o sulla vera realtà della nascita, si ritrova ad avere un presidente no profit, se si prende la parola, cioè a non prendere soldi, ma anzi. La stessa identica cosa succede per i lavoratori, perché capite bene, quel lavoratore non retribuendo monoreddito per 40 mesi significa proprio azzerarlo a livello sociale e a livello emotivo. Ma da chi dipende l'Istituto Testa Secca? L'Istituto Testa Secca è un rebos su da chi dipende, perché i lavoratori realmente sono stati assunti con una normativa di legge che ad oggi non si riesce più a reperire negli uffici regionali. Poi percepiscono un finanziamento talmente, dico poco come la fonda, perché parliamo di 10.000 euro, non più di tanto, a fronte di 10 dipendenti, quindi capite bene, ogni dipendente, tra lo stipendio, tra quello che è il proseguo dell'Istituzione, per quello che bisogna versare per ogni lavoratore, ovviamente non si riesce a coprire nessun progetto. Questi 10.000 euro da chi li percepisce? Dal Comune di Caltanissetta, il quale, devo dire, è molto presente su questo. Probabilmente ultimamente non tanto, però è sempre stato presente. Quindi mancano i finanziamenti regionali? Il finanziamento regionale, anche quello, è lieve, è un minimo, perché a difenza di altre realtà che hanno il diritto al 100%, loro non ce l'hanno. Negli ultimi anni il Testa Secca è un istituto che si è autofinanziato, cercando di fare la qualsiasi cosa, il piccolo affitto, l'assistenza agli anziani per il quale percepisce questo fondo dal Comune, degli autofinanziamenti che però non sono bastevoli nemmeno a gestire quelle che sono le spese di gestione all'interno, luce e tant'altro. Ricordiamo chi ospita l'Istituto Testa Secca? L'Istituto Testa Secca oscupa alcune unità che sono persone fortemente disagiate, ospita persone anziane che da sole non sono autogestibili e magari durante il giorno stanno qua, pranzano, hanno un passo, hanno un'assistenza. Ma parliamo di numeri proprio lievi. La realtà è che in questo istituto non c'è mai stata volontà di fare una progettazione, perché io penso che se oggi vi fosse stato realmente un interesse dalla parte politica del territorio, sul Testa Secca, facendo una progettazione assieme al personale che vi è oramai da tanti anni, parliamo, c'è gente qui dentro che ha più di 30 anni di servizio, una progettazione seria, un qualcosa comunque discussa sia con le parti sociali che con le parti politiche, io penso che il Testa Secca possa essere una bella realtà, anche perché già è una realtà in sé per sé, per noi nisseni. Domani pomeriggio alle 16 qui ci sarà un incontro? Sì, domani pomeriggio alle 16 ci sarà un incontro e con i lavoratori e con chi amministra il Testa Secca perché chiederemo di fare un tavolo che poi porteremo realmente a Palermo di emergenza sociale, come dicevamo all'inizio più volte paventata, affinché tutti assieme possiamo trovare una soluzione e cercare di far ripartire il Testa Secca con delle progettazioni nuove e talmente brevi e veloci che per poter garantire l'occupazione di questi lavoratori, perché altrimenti tra quello che già viene meno, tra quello che giustamente ogni lavoratore si rivendica, significa che tra un mese, due mesi al massimo non si potranno più pagare luce o tant'altro, significa la chiusura, perché voi capite bene che non appena iniziano ad arrivare pignonamenti, inizia ad arrivare tutto, praticamente andiamo a blocco di quelle che possono essere i finanziamenti di attingere, quindi significa la chiusura di un palazzo storico di Calzanissetta. Il tutto solo ed esclusivamente per la mancanza di interesse reale di chi dovrebbe accudire determinate situazioni e dalla realtà demagogica che viene ad oggi presentata sul nostro territorio da chi fa politica. I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela hanno segnalato nella serata di ieri un minorenne per uso personale di sostanza stupefacente. I militari sono intervenuti a sostegno della locale polizia municipale a seguito di un incidente stradale autonomo in cui era rimasto coinvolto il ragazzo. Una volta terminati i rilievi del caso, i carabinieri si sono recati in ospedale per verificare le condizioni del giovane. Il ragazzo alla loro vista ha assunto un atteggiamento nervoso, infatti poco dopo i medici del reparto dovendo spogliare il paziente, hanno trovato occultato negli slip un quantitativo di marijuana chiusa in una busta di un peso di circa 10 grammi. Il personale medico ha informato i carabinieri che hanno proceduto alla segnalazione del minore. E intercettati con la droga nascosta addosso due denunce a Riesi. I carabinieri della stazione di Riesi hanno deferito e stato di libertà nella notte del 17 maggio due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari infatti, durante un servizio predisposto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato due persone sospette che a piedi percorrevano la via Mazzini a Riesi. I due alla vista dei carabinieri hanno assunto subito un atteggiamento nervoso e in particolare uno di loro, pensando di non essere visto, ha gettato a terra repentinamente parte dello stupefacente celato sulla persona. I carabinieri quindi, accortisi del gesto, hanno affiancato i due e a termine di un'attenta perquisizione personale hanno rinvenuto addosso cinque dosi di cocaina per un peso totale di grammi 1,62, due dosi di hashish per un peso totale di grammi 2,58 e un involucro contenente marijuana per un peso di 0,37, il tutto occultato nella biancheria intima, in modo tale da rendere più difficoltoso il suo ritrovamento. In questo contesto di controllo eccezionale del territorio per i reati in materia di droga, si inseriscono le segnalazioni alla prefettura di Caltanissetta per uso personale effettuate dai militari della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela. I militari della sezione infatti hanno proceduto a controllare nell'arco dei primi giorni della settimana 254 persone, 126 tra motocicli e autovetture, perquisiti 42 soggetti di cui segnalati alla prefettura 8, ai quali è stato sequestrato dello stupefacente per un peso totale di grammi 24,6. A Caltanissetta si è tenuto il congresso medico, le mille facce della fertilità, sentiamo le interviste. Si tiene oggi a Caltanissetta un importante convegno, le mille facce della fertilità, cosa c'è da sapere innanzitutto sul piano nazionale? La cosa che bisogna sapere dal piano nazionale è che stanno diminuendo le nascite in Italia in modo drammatico e si sta cercando insieme ai medici di medicina generale, consultoriali, ospedalieri, insieme ai centri di riproduzione assistita di costruire una rete sul territorio per guidare le coppie che non riescono ad avere figli. Quindi contribuire alla natalità nel nostro paese partendo appunto dalle coppie che vogliono avere figli e non riescono ad averle. oltretutto, oltre questo, infatti è presente anche a Caltanissetta il sindaco della città, contemporaneamente agire sulla popolazione generale per fare in modo di, invitando la popolazione e soprattutto i giovani a prendere coscienza che i figli si fanno giovani e non a 45 anni e a 50 anni perché lì neanche la riproduzione assistita li può aiutare. Quindi un'azione parallela su due versanti, da una parte la parte sociale che riguarda appunto tutta la popolazione, stamattina si è parlata dell'importanza delle scuole e di un intervento educativo e informativo anche nelle scuole, dall'altra parte un aiuto concreto alle coppie che vogliono avere figli per risolvere il problema delle nostre società e della nostra società moderna che non si fanno più figli. Lei si occupa del problema della fertilità a Catania, la sua presenza oggi qui a Caltanissetta è significativa, vuol dire che porterà il suo contributo anche qui? Sì, noi stiamo organizzando, ho dato una mano di fatto in tutta la Sicilia, questa è la quarta giornata che si fa, la prima è stata a Ragusa, la seconda è stata a Messina, la terza a Catania e oggi siamo qui a Caltanissetta e il 10 di giugno saremo a Palermo. L'idea è appunto quella di informare, infatti in ogni città stiamo vedendo tutti questi operatori del territorio, costruire delle linee guida territoriali dove ognuno di noi assume un ruolo e una responsabilità, quindi oggi la mia presenza qua è il ginecologo che si occupa di riproduzione assistita che parla con le altre figure professionali e indica dal mio punto di vista quello che sono le cose che dovrebbero fare nel territorio le coppie prima di arrivare a un centro di riproduzione assistita. In questo momento sta parlando, ho finito di parlare la consultoriale che ha detto quello che può fare nei consultori nei confronti di queste coppie, sta parlando in questo momento il medico di medicina generale che ha un ruolo importante nella gestione e nell'indirizzo di queste coppie, quindi finalmente coppie che vengono trattate, come posso dire, a chilometro zero per i problemi della fertilità anziché andare a girare a destra a manca o in altre regioni o addirittura in altri paesi europei, quindi riuscire a modernizzare e a portare l'assistenza nelle famiglie e sul territorio dove vivono queste famiglie. Dottore Lovalvo, oggi la situazione qui a Caltanissetta com'è? Le coppie che non riescono ad avere figli, cosa possono fare? Le coppie che non riescono ad avere figli possono sicuramente parlare o interagire con, come diceva il dottore Guglielmino, con i consultoriali, ma già col medico di famiglia, perché è importante arrivare a una diagnosi, è importante arrivare a una diagnosi nel più breve tempo possibile, perché il periodo della fertilità in una donna è un periodo molto breve, quindi prima si arriva alla diagnosi e prima si cerca che risolve il problema e meglio è. Bisogna informare le donne che oltre i 35 anni c'è un calo drammatico della fertilità e che quindi non è possibile procrastinare la voglia o la possibilità di fare figli all'infinito, non è così e quindi bisogna intervenire nell'informazione fondamentalmente. Al centro Michele Abbate dal 20 al 29 maggio la tradizione popolare con P3. Al centro culturale polivalente Michele Abbate di Caltanissetta dal 20 al 29 maggio P3, la tradizione popolare siciliana attraverso eredità culturali e innovazioni 1916-2016, quindi cosa prevede la Kermess? Prevede delle articolate, diciamo, aggiornate che partiranno da domani mattina, domani mattina avremo già le scuole che parteciperanno ad un'opera dei pupi, spesso patrimonio, diciamo sappiamo che è un patrimonio dell'UNESCO e che i bambini non hanno la possibilità di frequentare come si faceva un tempo. Poi il pomeriggio invece sarà la volta della rete museale del centro Sicilia che ha organizzato invece un'intera tavola rotonda dedicata ai musei etnoantropologici che nel nostro territorio sono molto presenti, ma sono presenti in tutta quanta la Sicilia, tant'è che staranno a parlare le diverse reti museali siciliane, però parlando anche delle prospettive di questi musei che spesso risultano molto radicati nella tradizione, ma oggi possono anche, diciamo, essere coadiuvati dei nuovi mezzi di comunicazione con delle piattaforme, la cosiddetta realtà immersiva eccetera, quindi domani pomeriggio lo sentiremo. La sera invece si concluderà con un momento artistico perché avremo Mario Incudine, oltre a numerosi talenti del nostro territorio che si occupano di tradizioni popolari, di danze, di canti, i famosi canti alla carrettiera, ci saranno i fogli amari, ci sarà l'associazione Metanoite, per cui avremo la possibilità di avere un ventaglio anche di quella che era la tradizione orale cantata in Sicilia. Poi la giornata, diciamo, più importante dal punto di vista convennistico è quella di giorno 21, per la quale abbiamo avuto un accreditamento anche da parte dell'Ateneo di Palermo, del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo sempre e dell'USP di Caltanissetta, che sarà integralmente dedicata all'ascito, diciamo, di P3 e dei suoi lavori, quindi tutto quello che attiene ai giochi, alla medicina, all'alimentazione tradizionale, ai soprannomi, ai proverbi, ai canti, eccetera. Ne parleranno illustri e importanti i docenti, sia di antropologia che di dialettologia, ma sarà presente anche il direttore del Museo P3. Dopodiché si continua invece con altre attività, una sarà curata dal Lions o giorno 24, in cui si parlerà in maniera esclusiva di giochi. Poi si continuerà il 28, invece, con una rappresentazione al Teatro Margherita, la mattina per le scuole, il pomeriggio invece per, diciamo, un pubblico adulto e che riguarda una cucitura in qualche modo dei racconti di Giuffà, fatti e raccolti appunto da P3 a cura dell'Associazione Prima Quinta e si chiuderà il 29 con la chiusura, tra l'altro, di una mostra concorso che in questo momento è già stata allestita, ma la inaugureremo sempre domani, dal titolo Suggestioni Popolari. In realtà le mostre sono due, una mostra concorso fotografica, in cui appunto verrà premiato poi domenica il vincitore e c'è accanto anche una piccola rassegna, diciamo, di pezzi della cultura materiale, quindi una piccola esposizione di pezzi della cultura materiale. E sempre giorno 29, in chiusura, avremo la presentazione di un libro importante, che è un libro di Salvatore Nicosia, che riguarda i metodi della tradizionale coltivazione del grano nel territorio del centro Sicilia. Alternanza Scuola Lavoro, la Real Maestranza insegna agli studenti dell'Istituto Artistico Juvara di Caltanissetta. Alternanza Scuola Lavoro, laboratorio di falegnameria artistica al quartiere Provvidenza di Caltanissetta. Gli artigiani, i falegnami della Real Maestranza insegnano l'arte agli studenti dell'Istituto Artistico Juvara. Allora, lo scopo del progetto Alternanza Scuola Lavoro è un'opportunità che i ragazzi hanno di lavorare materialmente, fisicamente, per produrre qualche cosa. Quindi diciamo che è il rapporto più immediato scuola-mondo del lavoro. I ragazzi a scuola hanno da apprendere solo aspetti teorici, qui invece con questo laboratorio, anche se con attrezzature anche alla buona, accettabili, però i ragazzi stanno sperimentando praticamente che cosa significa realmente lavorare. Questi oggetti noi con il corso di disegno industriale li progettiamo normalmente, però in fase di realizzazione non arriviamo mai. Invece in questo momento i ragazzi stanno proprio affrontando questo momento realizzativo e quindi formativo sicuramente per i ragazzi. La Rea Maestranza è stata felice di partecipare a questo evento perché grazie all'iniziativa del Vescovo e della Curia Vescovile per dare un zenzio e per dare un buon'immagine direttamente anche al quartiere Providenza, di cui la Rea Maestranza è devota, si può dire, perché noi non dimentichiamo che il sabato del Capitano è dedicato alla Madonna della Providenza e quindi il Capitano della Rea Maestranza parte da questa chiesa per andare a fare il sabatino e quindi ha sposato benissimo questa iniziativa di laboratorio artigianale per i ragazzi perché vede in questo un inizio per non dico risolvere ma almeno aiutare il quartiere in tutti i modi, nell'immagine ma anche nella fattibilità, nel lavoro. Abbiamo trovato dei ragazzi fantastici che hanno un entusiasmo che ci spronano e ci danno l'input di poter andare avanti e continuare con altre manifestazioni ma principalmente con altri laboratori artigianali di quello che si sta pensando di poter fare con tutti i mestieri, non solo con questo di Falegname che grazie al maestro Girolamo Scarandino che abbiamo avuto la disponibilità estrema che si sta praticando per dare a questi ragazzi almeno le basi per poter lavorare il legno, grazie a lui ma grazie anche a altri maestri artigiani di tutti i mestieri, specialmente quelli della Rammessange cercheremo di portare avanti queste iniziative per dare anche un po' di lavoro anche a questi giovani che purtroppo in questo momento soffrono un po' la crisi generale del mondo, specialmente dalla città di Cartanissetta. Abbastanza buona anche perché riprendiamo una parte di Cartanissetta che sembrava dimenticata invece no, buon lavoro mi sembra. E adesso la rubrica salute che oggi vi parlerà del fatto che mangiare troppe patate fa aumentare la pressione. Troppe patate nel piatto e aumenta il rischio di pressione alta. Uno studio individua infatti un legame tra eccessivo consumo di patate e rischio di ipertensione. La ricerca è stata condotta dall'ospedale Brigham and Woman e pubblicata sul British Medical Journal. Lo studio ha coinvolto decine di migliaia di persone tutte con pressione del sangue normale all'inizio della ricerca. Chi mangia patatine fritte ha un rischio più alto del 17%, mentre chi opta per le patate bollite o al forno si ferma all'11% in più rispetto a chi mette il tubero nel piatto solo una volta al mese. Gli epidemiologi hanno analizzato il diario alimentare dei partecipanti allo studio e visto quale fosse il consumo di patate di ciascuno. È emerso che coloro che consumavano quattro o più porzioni di patate a settimana cucinate nei modi più disparati, dall'esse a fritte al forno, avevano un rischio maggiore di ammalarsi di ipertensione rispetto a chi si limitava ad un consumo moderato, non più di una volta al mese. E anche per oggi abbiamo concluso, vi lascio alla rubrica Salute e Benessere che oggi vi parlerà dello sport contro 13 tumori. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. L'attività fisica protegge da ben 13 tipi di tumori e si conferma potente alleato nella prevenzione. In particolare, correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% il rischio di ammalarsi di alcuni tumori, come quello al fegato o al rene, e di oltre il 40% di tumore all'esofago. A confermare l'importanza dell'allenamento aerobico come scudo protettivo, è un ampio studio pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine. Ogni anno in Italia si registrano circa 363.000 nuove diagnosi di tumore e 177.000 sono le morti. Così come l'importanza dell'alimentazione e di corretti stili di vita, anche l'associazione tra esercizio fisico e cancro è già stata dimostrata da precedenti studi. Tuttavia, la nuova ricerca si distingue per aver esaminato i dati di ben 1,44 milioni di persone dai 19 ai 98 anni residenti negli Stati Uniti e in Europa. Andando nel dettaglio, lo studio ha confermato un minor rischio di tumori alla mammella, al colon, all'endometrio, già evidenziati da precedenti ricerche. L'esercizio fisico agisce attraverso meccanismi diversi, oltre al semplice abbassamento del peso corporeo, come produzione di ormoni ed effetto antinfiammatorio. Grazie a tutti.